chi non ha mai sentito parlare di idroterapia del colon no non è una tortura base di acqua ma il miglior trattamento possibile per eliminare tutte le scorie e le tossine dal nostro intestino lo sapevate che la maggior parte di noi soffre di stitichezza anche se va in bagno regolarmente tutti i giorni ma è una contraddizione no non è una contraddizione succede perché non si eliminano mai tutte le scorie accumulate nella giornata a causa di cibo stress e inquinamento qualcosa resta nel colon e giorno dopo giorno crea fermentazione putrefazione confiore infiammazione dolore e disturbi l'idro colon fa pulizia di tutte queste scorie e riporta l'intestino a nuova vita ne ho scritto anche nel mio libro di naturopatia i benefici dell'idro colon sono tanti ecco i principali toglie il gonfiore elimina la stitichezza stimola il metabolismo migliora la pelle e riduce l'infiammazione dalle articolazioni lo so che quando parlo di idro colon si sollevano molte domande ho risposto alle principali obiezioni in questo video con un finale a sorpresa andate a vederlo lo sapete che ho scritto la mia tesi per il diploma di naturopatia proprio sull'idro colon più di 25 anni fa è una materia che conosco molto bene e oggi voglio darvi tre consigli in base alla mia esperienza uno fatevi fare l'idro colon ma da un operatore veramente esperto perché fa la differenza nel mio centro a milano lo spazio solo salute ovviamente siete in ottime mani due un solo trattamento non basta l'intestino è lungo e le scorie sono tante tre dopo il trattamento è sempre utile prendere dei buoni probiotici e l'intestino è come nuovo se ami anche tu la salute naturale metti un bel mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao